Oggi è election day per il rinnovo dei consigli provinciali, dei presidenti e consigli di Latina e Viterbo. Mentre a Frosinone e Rieti c'è il rinnovo dei soli consigli provinciali. Seggi aperti dalle 8 alle 20, si vota con il sistema elettorale di secondo livello, non sono dunque i cittadini ad andare alle urne, ma gli elettori e gli eletti sono sindaci e consiglieri comunali, in rappresentanza dei cittadini. Il voto è ponderato, vale il numero degli abitanti e dei comuni per attribuire il peso del voto dei rappresentanti. Questi numeri delle 4 province del Lazio, 176 candidati, 3.224 aventi diritto al voto, 257 comuni coinvolti. In provincia di Latina i candidati alla presidenza della provincia sono Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno ed ex assessore provinciale all'ambiente, e il sindaco di Itri, Giovanni Agresti. In provincia di Trosinone sono 6 le viste in campo per un totale di 49 candidati al consiglio provinciale, i comuni sono stati suddivisi in 5 fasce e per ciascuna c'è una scheda di colore diversa, il voto di un consigliere oscilla dai 287 punti, è il caso delle città di Trosinone e Cassino, ai 30 per i centri più piccoli. In provincia di Viterbo due candidati in gara per la carica di Presidente, Alessandro Romoli, sindaco di Bassano in Teverina, e Alessandro Giudivi, sindaco di Tarquinia. 54 sono i candidati che hanno scelto di concorrere per andare ad occupare i 12 posti nel consiglio provinciale. In provincia di Rieti, come per Frosinone, le elezioni riguardano solo il parlamentino di Palazzo d'Oltrevelino, mentre per quelle riguardanti il Presidente se ne ripallerà a ottobre dell'anno prossimo. Tre le viste per un totale di 25 candidati, di cui 10 verranno eletti. Domani lo scrutino dalle 9 a mezzogiorno.